la partita possa essere divisa in due momenti importanti, in due tronconi, i primi due quarti dove eravamo tutti un po' cicale e sembrava che la stagione non fosse ancora iniziata, un punteggio alto per quello che secondo me dovrà essere e sarà la tendenza di questa stagione, di questo campionato, poi invece difensivamente si è cominciato a fare sul serio da una parte e dall'altra ed è vistosa la differenza poi di percentuali ma anche proprio di punti realizzati da entrambe le squadre nella seconda parte. Siamo stati capaci di competere alla pari con una accorazzata come Cantuco, una delle favorite assolute per 45 minuti e giocando sia di Fioretto sia di sciabola o di spada, qualche volta anche un po' di clava ma da una parte e dall'altra come sarà doveroso imparare a fare e per cui proprio due fasi distinte. All'interno della seconda fase devo dire mi è piaciuta tantissimo la reazione che ci ha portato a recuperare un parziale importante con poco tempo a disposizione, con grande lucidità e con grande disponibilità da parte di tutti a fare qualcosa in più soprattutto difensivamente mostrando quello che deve essere il nostro spirito, quella che deve essere la nostra parla canessa da qui in avanti per poter esprimere il meglio delle nostre potenzialità. Franco con tutto il rispetto per il roster della tua squadra però bisogna riconoscere che tu in sette giorni hai battuto due volte una Cantu che sulla Caterma considerata tra le favorite per la vittoria finale che ha una roster decisamente importante. Come si dicono due partite in sette giorni? Ma un po' si parte dalle fondamenta che sono quelle che abbiamo un po' evidenziato magari un po' nell'apertura e poi si cerca di trovare piccole chiavi tattiche che possano togliere qualche certezza, possano togliere qualche punto di riferimento ai nostri avversari e non sempre le stesse, cioè rispetto a quelle che erano state le scelte tattiche della Supercoppa oggi abbiamo cambiato alcune cose, non tutto, però alcune cose le abbiamo cambiate e credo con buoni risultati. La costante è stata sicuramente quella di in entrambe le gare di mettere un pochino fuori partita McGee e questo probabilmente è uno dei pregi maggiori che abbiamo avuto. Poi è chiaro che le condizioni non ottimali di Basile e Moraschini che rientrava ci sono anche dei fattori che un po' ci hanno aiutato, che vanno tenuti in considerazione, però la nostra capacità è stata non pensare che oggi si giocasse la partita di sette giorni fa, otto giorni fa. Oggi era un'altra partita, doveva essere giocata in un altro modo e siamo stati capaci di farlo. Grazie. un grandissimo pathos in questa gara. Noi avevamo la curiosità e un po' così l'interesse di capire quale sarebbe stata la partecipazione del nostro pubblico e devo dire è stata straordinaria numericamente ma anche a livello di impatto emotivo, di partecipazione, di sostegno. Credo che poi una vittoria ottenuta così con una squadra di questo tipo come avversario possa aver così un po' amplificato, accentuato entusiasmi e fidelizzazione e simpatia nei confronti della squadra. Quindi credo e mi auguro che possa essere uno straordinario punto di partenza. Sicuramente una prestazione diversa da quella di Livorno. Sicuramente una partita approcciata, giocata con uno spirito e un'energia totalmente diversa. Possiamo pensare di produrre in ogni voce statistica dei valori migliori di orgi nuovi e avere 15 tiri in più e numeri decisamente più alti nelle principali voci e non essere in grado di portare al risultato. È un problema chiaramente. Rispetto alla partita dell'andata di settimana scorsa, ripeto, sicuramente una prestazione migliore. La chiave può essere stata sicuramente, sono due. Quando nel terzo quarto, a cavallo del quarto quarto, abbiamo fatto il break e in un'azione abbiamo sbagliato l'ennesimo che adesso lo ha solo da sotto. Abbiamo preso contropiede più fallo e antisportivo, ci è costato 6 a 0 di parziale. È chiaramente una partita che erano più 10. In un'azione tu potevi andare più 12 e sei andato più 5, più 4. Chiaramente creando l'atmosfera e garra a orgi nuovi. Non è questione di superficialità, dobbiamo stare più attenti perché se al secondo tempo, escludendo questi 5 secondi in cui prendiamo quel 5 a 0 di quell'azione, noi facciamo fare 12 punti e 11 a secondo tempo a orgi nuove, quindi 23. Dobbiamo essere più pragmatici, più scenici nel vincere la partita. Abbiamo sbagliato non so quanti tiri da sotto, da soli, appoggi, schiacciate e quindi poi quando hai tutte queste opportunità le lasci lì e poi giustamente perdi e si fa i complimenti agli avversari. È un passo in avanti rispetto a settimana scorsa, non è sufficiente per cui dobbiamo fare un ulteriore step e dobbiamo farlo di fretta mercoledì in casa nostra. Il coach, le percentuali dicono 39,2% al tiro complessivo, il tirato da 24, 84 volte e complessivamente segnalano le 29. È una, sono percentuali che fanno le crete. No, è quello che ho detto, abbiamo tirato molto più di loro, abbiamo avuto 15 tiri in più, è chiaro che se sbagliamo abbiamo sbagliato così, senza far fatica, senza avere una grande memoria, almeno 5-6 tiri, ma non tiri da 3 aperti che quelli poi capitare di sbagliare, appoggi da soli da sotto. È onestamente in una partita così maschia, così dura, così intensa, queste situazioni qua, da una parte un eccezionale Devo fa dei canestri carpiato in aria col difensore davanti e noi sbagliamo le schiacciate da soli da sotto. Capita, non deve capitare chiaramente, ma può capitare. Ci portiamo a casa la prestazione è totalmente diversa, l'effort diverso che abbiamo fatto e chiaramente sapendo che non è sufficiente, perché il risultato dice che non è stato sufficiente, per cui ci si rimbocca le maniche e fra 40-72 ore siamo pronti in casa contro Brindisi a fare un'altra partita. Le domani sono lupi a mancare soprattutto punti in gioco da quelli che avrebbero voluto essere terminati di questa squadra, di G, di G e anche la stessa legge di Nicolau. Moraschini che rientrava e Devo non è certamente valutato del 100%. Ma no, secondo me i punti sono stati, abbiamo fatto qualche tiro forzato, ci sono stati dei momenti in cui potremmo fare dei tiri con una scelta di tiro migliore, però onestamente abbiamo sempre detto che abbiamo un bel roster lungo e di qualità e poi secondo me i punti sono distribuiti in maniera corretta, non necessariamente ci deve essere per forza uno che faccio a 30. È chiaro che come squadra ognuno fa un passettino in avanti, non è questione neanche, io uso il termine superficiale, ma non è questione di superficiale perché i ragazzi sono stati tutto tranne che superficiali. Dobbiamo essere un pochino più cinici, quando a 30 secondi dalla fine Basile va a poggiare, schiaccia, sbaglia, chiaramente l'azione dopo prendi il canestro del pareggio, quindi capita, non metteremo in croce sicuramente Basile, però è chiaro che quell'aspetto lì, ma non il tiro di Basile, altre situazioni alla lunga ti costano, li hai tenuti in casa a 70 punti, onestamente con un Devo che ha fatto oggettivamente dei canestroni di grande qualità. Più di così a livello di effort non potevi fare, dobbiamo essere un pochino più cinici. Abbiamo dominato o no, però abbiamo sicuramente dei numeri positivi in tutte le statistiche, per cui un po' più attenti, un po' più cattivi, finire e fare dei canestri facili e magari parliamo di un'altra partita. Un'ultimissima domanda, è evidente che perdere in sette giorni o tre fila contro la stessa squadra lascia anche un po' sorpresi. No, non lascia sorpresi, Orginovi è un'eccellente squadra, ma in quintetto ha tre giocatori che due anni fa giocarono la finale con me, per cui un Devo che è un eccellente giocatore, per cui non è proprio l'ultima squadra un allenatore importante. I risultati della giornata di oggi si dicono che non ci sono le partite facili e come ho detto in preconferenza venerdì se c'è qualcuno che pensa che ci sia qualcuno che qua debba vincere sempre e sbaglia quella persona lì, non è che sbagliano gli altri. Il campionato è tostissimo, squadre che oggi si pensava vincessero tutte invece tanti hanno perso, non so come sono state le partite, per cui bisogna rimboccarsi le maniche e sapere che è difficilissimo e sapere che quando vieni trasferta in un campo difficile contro un'eccellente squadra come Orginovi devi essere in grado, se hai l'opportunità, di essere cinico. Perché se poi, ribadisco, quando ti si crea l'opportunità, perdi quell'attimo, poi giustamente ti può andare bene, ti può andare male. Oggi è andata male, con un po' di fortuna magari potrebbe andarci bene. L'ultimo canestro di Andrea Libero lo metterà avesse messo, staremmo parlando che ci era andata bene. È così, però, ripeto, la prestazione è sicuramente buona e dobbiamo fare un altro step.